cari amiche e cari amici in questo video vedremo quello che si nasconde dietro il veganesimo e la subcultura vegana come si sa il nemico principale di chi nella realtà dei nostri giorni si batta per valori comunitari e tradizionali sicuramente va identificato nella ideologia liberale ideologia liberale che produce un'azione profonda invasiva e pervasiva al punto da condizionare tutte quelle visioni del mondo che in origine si opponevano a questo dominio incontrastato legato all'utile e all'economia e si opponevano anche a quei comportamenti sociali che erano finalizzati alla realizzazione di profitti sempre più ampli oggi assistiamo a una forviante teatrale divisione dei ruoli politici e falsamente e su falsi problemi si contrappongono una destra e una sinistra in fondo fasulle una destra che impone le regole economiche e finanziarie alle società globalizzate e una sinistra che indica e contribuisce a diffondere i modelli e tutti quegli stili di vita che sono funzionali alle perpetuazioni del sistema economico totalitario del potere e del pensiero unico sia destra che sinistra segnano i confini intellettuali di quello che viene definito politicamente corretto fuori da questo confine del politicamente corretto si è immediatamente marchiati come violenti omofobi razzisti retrogradi e così via dopo aver abbattuto gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione del mondo globalizzato e dopo aver nei fatti ostracizzato qualsiasi tipo di appartenenza identitaria e ogni forma residuale di legami tradizionali di vincoli tradizionali tra gli uomini e anche dopo aver desacralizzato la natura ecco che il mondialismo e soprattutto i potentati mondialisti a servizio di una ecologia di facciata come abbiamo visto nel caso di greta thunberg non a caso ricevuta dalle nostre più alte cariche istituzionali compreso il papa che hanno unanimemente espresso il loro appoggio alla sua campagna in difesa del clima e poi c'è un altro tipo di ecologia l'ecologia alimentare il veganesimo che è strettamente funzionale al liberismo economico e al pensiero unico mondialista e al suo tentativo di creare una sorta di uomo nuovo ossia il consumatore senza identità a cosa deve il successo la subcultura vegana che è rilevante in tutto il mondo occidentale gradualmente lo vedremo ma che il veganesimo sia funzionale al sistema di potere mondialista già si può comprendere dall'esaltazione dell'animalismo strettamente interrelato alla subcultura vegana e a una esasperata protezione degli animali che possiamo riscontrare nelle leggi di molti paesi occidentali i famosi diritti degli animali che diventano norma e così il mangiatore di carne o qualsiasi cacciatore viene di sovente equiparato a una criminale a un razzista in ogni caso a una persona dai comportamenti ritenuti esegrabili sotto il profilo etico i maggiori divulgatori di questa tendenza in particolare presso i giovani presso le nuove generazioni sono le diverse star internazionali e molti intellettuali da sanotto funzionali ai poteri del sistema come vedremo nella seconda parte di questo video e capirete anche perché non parlo di cultura vegana ma di subcultura vegana in quanto imposta come vedremo dalle multinazionali chi infatti non è divorato e condizionato dal demone delle ideologie cosmopolite l'illuminismo il marxismo il cristianesimo in salsa bergogliana che pretende il meticciato nell'europa ecco chi non è condizionato da tutto questo non può non vedere che il destino che incombe su di noi e che affonda le sue radici in tutte quelle teorie quei comportamenti come il veganesimo e la dottrina gender che privano i diversi popoli della propria identità ebbene questo destino è la peggiore delle disgrazie e come vedremo la subcultura vegan ha un ruolo molto importante da questo punto di vista tutte le opposizioni alla globalizzazione al pensiero unico dovrebbero in realtà mirare all'affermazione e al rispetto delle diverse identità e questo è il modo più diretto per opporsi alla globalizzazione e dunque opporsi anche alle ideologie che diventano chiesa come l'ideologia gender e come l'ideologia vegana il massimo dell'assurdità quale significato infatti può avere l'opposizione alle logiche del pensiero unico se nel contempo si contribuisce a far sparire le identità ai popoli le etnie le culture ma soprattutto le diverse tipologie identitarie compresa quella identità alimentare come nel caso della subcultura vegana una vera opposizione al mondialismo una vera opposizione al pensiero unico si trova semmai in tutti quei movimenti che possiamo chiamare identitari movimenti che si oppongono a ogni tipo di omologazione tendente ad uniformare al livellare ad omologare compresa l'omologazione alimentare ma si illude chi crede che questa subcultura vegana sia nata spontaneamente da qualche forma di buonismo da qualche amante degli animali chi pensa questo sicuramente non conosce il rapporto it lancet che vorrebbe imporre a tutto il mondo una dieta mondiale esclusivamente vegetale un unico modello alimentare per l'intero pianeta e ci sono delle persone che si stanno muovendo in questo senso appoggiate da le grandi multinazionali e anche le industrie farmaceutiche e molto molto poco si parla di questo e non è un caso che si parli poco di questo ma intanto mentre tutti i negozi sono inclisi i ristoranti vegani gli ambienti vegani sono in espansione ve lo siete mai chiesto perché non è semplicemente una moda è una moda ma appoggiata dalle grandi multinazionali grandi gruppi di potere dicevo che non si parla del rapporto it lancet che che cos'è il rapporto it lancet vuole imporre a tutto il mondo una dieta esclusivamente vegetale un unico modello alimentare per l'intero pianeta ecco perché organizzazioni come l'organizzazione mondiale della sanità piano piano attraverso la logica della finestra di overton ci fa sta facendo entrare in questa nuova situazione attenzione perché la carne rossa fa male fa venire il tumore ma che cos'è questo rapporto it lancet il rapporto it lancet è stato prodotto da una commissione formata da 37 membri che partecipano tanto per cambiare in qualità di esperti indipendenti quando tutto sono tranne che esperti indipendenti infatti molte critiche sono state mosse proprio all'indipendenza della commissione perché questa ha collegamenti lobbistici con le più importanti organizzazioni finanziarie ed economiche it forum è stato ad esempio fondato dalla fondazione store dallen finanziata tra gli altri dal welcome trust un importante accordo di natura economica di it forum è stato istituito con fr e s ossia food reform for sustainability and health una delle principali iniziative del wb csd ossia la world business council for sustainable development che raggruppa alcune delle più grandi multinazionali nei settori alimentare farmaceutico chimico e del biotech ed è strano come si parli molto di vaccini ci siano state mobilitazioni per i vaccini ma di questo non si parla per niente infatti dovrete far circolare questo video lo stesso rapporto it lancet riconosce espressamente il finanziamento da parte del welcome trust incluso il sostegno finanziario al segretariato per il coordinamento del lavoro della commissione e per le spese di viaggio vitto e alloggio dei suoi membri in occasione dei vari incontri internazionali questo conferma che tutti gli autori hanno ricevuto finanziamenti da it e da welcome trust questa commissione include tra i suoi membri anche funzionari di alto livello dell'organizzazione mondiale della sanità quella che da un momento all'altro ha sdoganato l'omosessualità con un solo tratto di penna e quella che ci sta dicendo che la carne rossa fa male fa venire il tumore quindi questa commissione it legata al welcome trust include questi funzionari di altissimo livello dell'organizzazione mondiale della sanità ma anche attenzione dell'organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e la agricoltura ossia la cosiddetta fao che obiettivo a questa it lancet a l'obiettivo attraverso i rapporti della commissione di promuovere una trasformazione radicale delle modalità di produzione di consumo del cibo basata su una dieta salutare globale di riferimento in tutto il mondo vogliono imporre un'unica dieta a tutto il mondo con interessi spaventosi da parte delle grandi lobby e delle multinazionali questa è stata oggetto di numerose critiche che immagino nel tempo verranno spazzate via critiche che ci sono state anche dal semplice punto di vista nutrizionale perché molti nutrizionisti hanno sottolineato come la dieta di riferimento tratteggiata dalla commissione risulta essere fortemente deficitaria di ferro di vitamina b12 retinolo vitamina d3 vitamina k2 e di sodio ma la cosa allucinante è proprio che si vuole imporre questa dieta standard a tutto il pianeta e che il veganesimo sia il cavallo di troia di questa logica e l'animalismo insieme al veganesimo che sembrano apparentemente dei principi buonissimi perché chi è chi non vuole bene agli animali chi è non vorrebbe salvaguardare il nostro ambiente ma non è così ovviamente i solidi noti sfruttano anche queste nostre tendenze umane positive per voler imporre questa dieta unica a tutto il pianeta e la cosa allucinante è senza tenere conto dell'età del sesso del metabolismo dello stato generale di salute delle abitudini alimentari di ciascun individuo e quindi questo non può trovare alcuna giustificazione scientifica perché se si va da un qualsiasi medico da un qualsiasi dietologo e si va lì con delle analisi e ti danno una dieta individuale e tutti i medici seri sconsigliano di prendere le diete viste su internet o letti sui giornaletti femminili o i consigli dell'amica che ha detto ho fatto questa dieta e sono dimagrita di dieci chili in un mese perché questo perché si tiene conto del metabolismo del sesso della salute di ogni individuo e dunque tutto questa finestra di overton e questa graduale lavaggio del cervello che hanno cominciato a fare sommessamente ma che ha come cavallo di troia i vegani non ha giustificazione scientifica di alcun tipo e inoltre implica anche la distruzione delle diete salutari e tradizionali millenarie che fanno parte proprio del patrimonio culturale e dell'impianto sociale di molti paesi che obiettivo vogliono raggiungere questi farabutti la commissione identifica diverse gradazioni di intervento pubblico per cambiare il sistema alimentare di tutto il mondo che vanno da le misure più morbide e ci sono già programmati una serie di progetti legato alla educazione del pubblico attraverso campagne di informazione di massa attenzione che la carne rossa fa male fa venire il tumore fino a misure più drastiche che includono ovviamente i soldi l'adozione di incentivi per alcune categorie di prodotti alimentari identificati come prodotti sani che fanno bene alla salute e l'adozione di disincentivi per altre categorie merceologiche ecco la ridistrizione della libertà di scelta da parte del consumatore e da ultimo la totale eliminazione della libertà di scelta da parte del consumatore attraverso la rana bollita e la tecnica della rana bollita della finestra di Overton il rapporto della commissione afferma che nell'ultima fase l'industria alimentare dovrebbe allucinante ritirare dal commercio tutti i prodotti inappropriati diversificando in questo modo i propri affari la commissione suggerisce per i policy makers di non limitare lo spettro degli interventi a disposizione infatti nel rapporto afferma che i diversi paesi e nei diversi paesi le autorità non devono limitarsi a misure restrittive o interventi soft ma un po alla volta incoraggiare questo progetto di dieta globale di livellamento alimentare di uniformità che ha come cavallo di troia la subcultura globale ebbene dice la commissione che le autorità devono limitarsi all'inizio con interventi soft ma successivamente devono incoraggiare il progetto attraverso precisi interventi politici molto centrati e molto decisi quali conseguenze avrebbero queste raccomandazioni della heat lancet commission qui è difficile valutare le conseguenze sulla salute pubblica ma è stato già sottolineato da molti come il regime alimentare suggerito dalla commissione sarebbe fortemente deficitario come vi dicevo dal punto di vista nutrizionale e pertanto sarebbe dannoso nel lungo periodo per la salute umana e rientriamo nel discorso che già molti conoscono e che è legato ai vaccini invece appaiono chiare le conseguenze di questa transizione dal punto di vista economico perché questa rivoluzione del sistema alimentare auspicata dalla commissione heat lancet condurrà a una fase di depressione economica soprattutto nei paesi in via di sviluppo la totale o quasi totale eliminazione degli elementi di origine di alimenti scusate degli alimenti di origine animale in particolare di carne e prodotti dell'industria casearia immaginate significherebbe la fine dell'allevamento bovino e di diverse attività correlate alla produzione della carne inoltre tutte le imprese che producono alimenti e bevande che gli autori del rapporto classificano impropriamente come insalubri fanno male alla salute ebbene questi sarebbero costretti a ritirare i prodotti dal mercato per diversificare i loro affari una vera tragedia e tutti questi sconvolgimenti interessano tutti i produttori di carne di latte di formaggi di dolci e alimenti correlati con conseguenze drammatiche per l'economia di molti paesi inclusa la perdita di milioni di posti di lavoro e la morte di migliaia di piccole e medie imprese anche nei paesi in pieno sviluppo in conclusione cari amiche e cari amici state molto attenti e fate circolare questo video perché come vedete non se ne parla di questo che è importantissimo dicevo in conclusione chi è realmente interessato a lottare contro il pensiero uniformante contro il liberal capitalismo il pensiero unico deve opporsi in modo deciso alla subcultura vegana alla dieta vegana non comprate prodotti vegani disertate i ristoranti vegani opponetevi con tutte le forze alla dittatura del pensiero unico alimentare che nasconde sotto le buone intenzioni di tanti vegani che sono bravissime persone in buona fede ma tutto questo nasconde un'adesione al pensiero unico con i soliti esorbitanti vantaggi economici delle multinazionali e questa adizione al pensiero unico ha come principale obiettivo la distruzione di ogni forma di identità compresa la identità alimentare passate parola passate parola passate parola fate circolare questo video un caro abbraccio a tutti marco cosmo